è un ricordo di papà purtroppo scusate la voce ma il papà è stato sempre un uomo che non si è vantato di quello che aveva fatto io per caso sono venuto a conoscenza di tutti gli ebrei che ha salvato e quindi questa cosa ne rende un personaggio ancora più da un lato semplice ma anche da come era con i figli ma con i figli era piuttosto severo si si può raccontare qualche episodio ma ripeto lui di questa di questa questo salvataggio di ebrei non ci ha mai non ci ha mai parlato oppure accennava dicendo sì ne ho salvato ma così hanno passato senza rimarcare e sta sede mi fa piacere senza dubbio sono molto lieto che il suo paese natale gli riservi questa questa questo ricordo infatti ringrazio tutti quelli che si sono praticati alla riuscita di questa in questo evento grazie